Gli ambrogini d'oro nascono all'epoca, questa delega al Consiglio nasce nell'epoca della sindicatura del mio amico Albertini, è stata data al Consiglio per rinforzare il ruolo del Consiglio. Essendo data al Consiglio, automaticamente vuol dire che la si dà ai partiti ed automaticamente vuol dire che ogni anno una trattativa tra i partiti. Io scopro l'acqua calda dicendo queste cose. Ognuno ha la sua idea. La mia idea, che avevo espresso anni addietro, è che gli ambrogini d'oro dovrebbero essere dati alla gente che non ha niente, che fa dei gesti importanti e che non ha altra visibilità, onore, eccetera, eccetera. Ma è una mia idea personale. Siccome il sindaco non ha potere se non ostativo, che non ho mai dovuto esercitare tra l'altro, sugli ambrogini d'oro, osservo e partecipo con ovviamente nel mio ruolo istituzionale e anche di affetto per l'amore del cielo al 7 dicembre. E' stato giusto premiare la ragazza delle temi? Credo di sì. Nell'ambito di tutto quello che, di quelle che sono i premiati, credo che sia una segnalazione, una proposta che aveva la sua dignità perché andava a toccare un problema vero.